Tra le tue parole c'è stato anche le norme non possono cambiare la realtà e questo mi dà modo di passare la palla a Raimondo Iemma del centro Nexa su internet società che è un centro molto importante in Italia per la cultura digitale delle reti che unisce competenze da Politecnico di Torino tradizionali, insomma ingegneristiche con competenze giuridiche molto rilevanti, un centro che è connesso con il Bergman Center di Harvard e che produce consapevolezza a molti livelli. Le norme non cambiano la realtà, può voler dire anche che tanto in Italia non le segue nessuno quindi va per i fatti suoi, però per quelli che le seguono che cosa significa questo cambiamento dei big data? Grazie a Luca, grazie a Istat per questo invito, rispondo subito a questa suggestione anche in relazione a quanto ha detto il professor Firpo poco fa. Le norme non cambiano sicuramente il modo di agire, mi viene da dire però in assenza di capitoli di spesa disponibili in questo momento per gli open data forse le norme sono tra virgolette l'unica cosa che si può fare per creare almeno delle condizioni favorevoli affinché le pubbliche amministrazioni rilascino i propri dati come aperti. In questo caso parliamo della sezione della cosiddetta agenda digitale che è stata promossa molto di recente e almeno un paio di punti mi sembrano essenziali su questo. Il primo è forse passato, non dico sotto silenzio ma poco commentato, il fatto che da qui a 120 giorni si richiede alle pubbliche amministrazioni italiane di pubblicare il proprio catalogo di dati e metadati, che è una cosa che è scritta in una frase ma è invece un lavoro improbo. È improbo da un lato ma dall'altro fornisce a chi poi deve riutilizzare i dati una sorta di ontologia, ho detto più volgarmente un menu, di quello che possono richiedere le pubbliche amministrazioni per far sì che questi dati prendano valore e diventino qualcosa che alimenta un servizio a valore aggiunto. E questo sicuramente, poi un'altra prescrizione molto importante a mio avviso è il fatto che diventano da qui a un periodo analogo di tempo open di default tutti i dati e le informazioni che attualmente sono pubbliche, quindi sui siti web distribuiti da pubblica amministrazione ma che non sono esplicitamente open, cioè che non sono accompagnate da termini d'uso aperti esplicitamente. Quindi le pubbliche amministrazioni avranno occasione di eventualmente suggerire che non è così, motivandolo, ma se non lo faranno, da qui a 90 o 120 giorni, non ricordo bene, questi dati saranno pubblici. In assenza di investimenti pubblici nell'apertura di dati, questi mi sembrano già due cose che cambiano il contesto in cui si muovono le pubbliche amministrazioni su questo tema. E ci allinea, o forse in parte addirittura fa sì che noi superiamo le direttive europee sul tema, in particolare la direttiva sull'informazione del settore pubblico che prescrive tutta una serie di definizioni, approcci alla materia che addirittura l'agenda digitale in alcuni punti recepisce non solo ma supera. Vorrei dare qualche suggestione in più sul tema di oggi, magari lasciandolo poi in pasto alle persone che partecipano a questo panel e anche a chi sta gentilmente ascoltando. Pochi concetti che vorrei esporre brevemente. Il primo è il tema dei modelli di generazione, condivisione e riutilizzo della conoscenza. Non mi sembrano nuovi, mi sembrano addirittura vecchi quanto l'umanità e non mi sembrano nuovi forse neanche per internet, perché sin dal suo inizio ci si è confrontati con questo tema che si collega in questo frangente con altri. Quindi non si può isolare il tema dei big data dal tema, per esempio, dei principi entro cui i pacchetti di dati vengono instradati e gestiti su internet. Il cosiddetto principio di neutralità della rete che alcuni sostengono e altri invece pensano si debba derogare. O ancora le tecnologie computazionali che ad oggi sono a disposizione. Penso ad esempio a cloud. Per me non esiste un'idea di big data senza cloud computing, senza possibilità tecnologiche di gestire nella pratica questi grandi modelli di dati. Credo che l'accezione di big sia da riferire non tanto alla quantità ma al fatto che vengono prodotti in maniera costante. E questo secondo me che caratterizza soprattutto l'attributo di big. dati OXE di oggi, cioè promossi oggi, al giorno vengono veicolati in rete l'equivalente di 212 milioni di DVD di dati al giorno. Entro sistemi che sono, qualora siano di peering tra gli operatori che gestiscono il traffico, nel 99% di questi casi non sono sanciti formalmente. Questo rende la rete un ecosistema, da un lato molto libero, dall'altro anche dotato di una certa fragilità da questo punto di vista. Noi, come ha ricordato Luca De Biase, ci occupiamo soprattutto della parte open della rete di quelli che sono i commons digitali, quindi delle enormi possibilità che esistono di riutilizzare contenuti senza restrizioni mi tocca però dire che la parte di open data è un sottoinsieme piccolissimo di quelli che chiamiamo big data addirittura trascurabile in termini di proporzioni. E questo è un aspetto su cui ci toccherà riflettere prima o poi perché se è vero che la rete consente anche molti modi di racchiudere l'informazione entro contesti proprietari e lo sappiamo tutti perché quello che facciamo tutti i giorni è questo, cioè consegnare in qualche modo interazioni e dati a piattaforme che non sono aperte, al tempo stesso aumenta il costo opportunità, direbbero gli economisti di chiudere i dati in contesti proprietari, perché le esternalità positive, altra espressione che un tempo trovavamo solo sui paper accademici economici ma che adesso troviamo addirittura sui giornali, le esternalità positive dell'apertura dei dati, del fatto che tutti noi possiamo contribuire dal basso a generarli e a valle possiamo contribuire a creare nuova conoscenza a partire da questi dati e incommensurabilmente superiore adesso rispetto anche solo a cinque anni fa o dieci anni fa. Quindi io vedo due modelli tra di loro antitetici e in mezzo ce ne sono altri che per brevità non cito. Uno è quello dei modelli di business che sono nati anni fa e che hanno sfruttato il fatto stesso che parliamo di una rete per crescere molto rapidamente e crescere sulla frontiera di quello che le norme consentivano. Penso a un operatore come Google che ha generato in questi anni una serie di pseudo beni pubblici che sono gratuiti, accessibili, non rivali in qualche modo, forse neanche non escludibili e quindi sono quasi beni pubblici che però si inseriscono all'interno di un contesto proprietario che è cresciuto nel tempo e che è diventato una sorta di monopolio di fatto in alcuni settori che sono tanti. Un altro invece, quello emergente di quello che in parte mi occupo anch'io, è legato all'evoluzione anche tecnologica del web di oggi. Molti di voi avranno sentito parlare del cosiddetto web semantico che è ancora una formula un po' esoterica per spiegare quale può essere l'evoluzione dei formalismi entro cui l'informazione viene veicolata sulla rete, quindi un'informazione che diventa in pieno machine readable e soprattutto, cosa importante, il paradigma dei cosiddetti linked data, la data linkabili questo può avvenire da parte di tutti, cioè ognuno di noi può contribuire alla definizione di concetti all'introduzione di dati all'interno della mappa aperta delle informazioni collegate che ci sono sul web. Penso ad esempio alla versione semantica di Wikipedia, che si chiama DBpedia, che prende praticamente gli infobox delle pagine di Wikipedia che tutti conosciamo per farle diventare delle dichiarazioni interpretabili dalle macchine per fare poi delle query avanzate e gestire questi dati in maniera completamente diversa e aperta. Quindi questi due paradigmi mi sembrano in opposizione e molte delle scelte che faremo nel prossimo futuro, che faremo non solo noi o forse non noi, determineranno i rapporti di forza che esistono tra un web in cui sostanzialmente si rispetta il principio iniziale di apertura e soprattutto libertà di espressione, libertà di contribuire tutti a questa babele informativa che è il web oppure quello che mi sembra sia già succedendo da molto tempo è il fatto che ci siano pochi operatori che hanno in mano una grande mole di dati e che sostanzialmente in un contesto di grande apertura cioè Google ti dice fai quello che vuoi ma fallo con me, in sostanza, in un contesto di libertà però dentro un recinto che è ben preciso che è quello che è determinato da questi operatori. aggiungo un aspetto che secondo me è importante e che è il seguente una delle fonti principali di questi big data siamo noi, cioè con il nostro comportamento la nostra interazione in rete, il nostro comportamento di consumo, eccetera esiste un dibattito che secondo me dovrà essere pienamente realizzato rispetto al fatto che non è ancora chiaro sempre quale sia il regime di proprietà e lo stato giuridico dei nostri dati in rete da un lato noi siamo quello che è l'analogo di quello che potrebbe essere l'autore di qualcosa quindi siamo l'origine dei dati, dall'altro chi sostiene un costo per gestire questi dati e quindi sostenendo questo costo emerge anche un diritto su questi dati, sono altri operatori pensiamo per esempio a cosa potrebbe succedere se gli operatori di telefonia ci consegnassero periodicamente informazioni dettagliate sul nostro comportamento di consumo questa è una cosa che non avviene, avviene al massimo una sorta di elenco di telefonate fatte che allegano le bollette, ma pensate se noi potessimo nel settore della telefonia come in quello delle assicurazioni o in quello del consumo energetico potessimo avere a disposizione il nostro comportamento di consumo questo ci consentirebbe da un lato di fare confronti con offerte concorrenti ed eventualmente posizionarci in maniera più efficiente noi come consumatori e consentirebbe in generale al mercato di avere una trasparenza incrementata quindi questi atomi di big data che sono i nostri singoli dati di consumo attualmente non sono appannaggio nella nostra disponibilità leggevo ieri un manifesto che si chiama user data manifesto che hanno promosso alcuni soggetti in relazione a questo tema e quindi è un decalo, sono otto punti di rivendicazione dei dati per i consumatori sorrido a leggerli ma non per sarcasmo, anzi mi sembrano tutti molto sensati vi ne cito alcuni, possesso dei dati, sapere dove i dati sono immagazzinati scegliere dove lo sono, poter avere accesso al controllo laddove questi dati sono immagazzinati sorrido perché tutte queste fattispecie in questo momento nella stragrande maggioranza dei casi non sono verificate, non è questo che succede quindi capisco anche la necessità di promuovere un manifesto del genere ma penso che tocchi i propri punti che secondo me sono basilari in questo caso riguardo alla pubblica amministrazione e sto per concludere che ho preso anche troppo tempo quello dei big data mi sembra anche un modo cioè un paradigma per cominciare a ingegnerizzare certi processi di gestione informativa dei dati anche all'interno della pubblica amministrazione da open data la pubblica amministrazione non solo può tirare fuori effetti positivi sull'intero sistema di riutilizzatori potenziali, anche no profit ma un modo migliore di gestire internamente i flussi informativi che si trova a dovere appunto gestire nella sua quotidianità anche per esempio recependo i feedback ricevuti dai cittadini sui propri dati attualmente non esistono per esempio processi e neanche strumenti effettivi affinché un dato rilasciato dalla pubblica amministrazione che ha il crisma della certificazione pubblica una volta migliorato, elaborato, eventualmente integrato con altre fonti dai cittadini possa essere riacquisito dalla pubblica amministrazione che ne gioverebbe intrinsecamente ma ne gioverebbero anche i potenziali riutilizzatori avere una sorta di seconda versione dei dati che non hanno la certificazione pubblica ma che sono stati generati sulla base del lavoro di altre persone esterne nella pubblica amministrazione concludo con un punto il tema dei big data attualmente è soprattutto affrontato in termini di ricerca e quant'altro da ingegneri informatici e derivazioni io penso che sia importantissimo che questo tema comprenda il più vasto insieme di discipline e di competenze e anche e soprattutto quelle umanistiche penso per esempio ai filosofi, penso ai sociologi, penso ai semiologi ecco in questo caso penso che siano proprio le competenze adatte e imprescindibili oltre a quelle tecniche, scientifiche e giuridiche per comprendere questo paradigma nel miglior modo possibile grazie mille bene grazie io mi ero dimenticato di avere lo schienale più alto degli altri ed ora in poi lo farò valere per stare nei tempi ma nelle cose che ci ha detto Iemma certamente ce ne sono alcune da sottolineare l'unica che non posso non sottolineare è quella che riguarda il fatto che le imprese private o comunque profit raccolgono una grande quantità di dati su di noi ne restituiscono una parte molto limitata e non personale ad alcuni dei loro clienti come nel caso di Google e Facebook ai loro clienti pubblicitari ma certamente non ci sono i dati da noi generati personalmente non sono nella nostra disponibilità personale questo è un fenomeno apparentemente contraddittorio e comunque molto interessante questo è un fenomeno apparente grazie mille